C'è la propria colpita che ti invoca con te nella fede. Oggi io sguardo dall'alta tua sede, a me cresci di un popolo fedele. Oggi io sguardo dall'alta tua sede, a me cresci di un popolo fedele. Oggi io sguardo dall'alta tua sede, a me cresci di un popolo fedele. Oggi io sguardo dall'alta tua sede, a me cresci di un popolo fedele. Oggi io sguardo dall'alta tua sede, a me cresci di un popolo fedele. Oggi io sguardo dall'alta tua sede. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. E il Verbo si è fatto carne. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo fatti degni delle unesse di Cristo. Preghiamo, infondi la tua grazia, o Signore, dei nostri cuori. Perché noi che all'annuncio dell'Angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del tuo Figlio, seguendo la via della croce ogni giorno, possiamo giungere alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Ora preghiamo il Santo Rosario. La Madonna ci ottenga il dono della luce per capire la lezione che ci viene da questa epidemia. Prima di tutto è un invito a fare un bagno di umiltà, per capire che siamo piccoli e fragili e tutti abbiamo bisogno di aggrapparci ad una roccia. E la roccia è soltanto Dio, non dimentichiamolo. Poi è un invito ad uno stile di vita più sobrio e più rispettoso nei confronti della creazione, che ha delle leggi ben precise, che vanno rispettate, altrimenti ci facciamo del male con le nostre stesse mani. Se mettiamo la mano sul fuoco, il fuoco non è cattivo. Stolti siamo noi che mettiamo la mano sul fuoco. E infine è un invito a riscoprire il vero senso, il vero significato della vita. La vita non è un gioco, ma è un impegno per preparare il biglietto per entrare nella vera festa che è al di là di questa vita. E nella festa si entra soltanto con il biglietto della bontà, il biglietto della carità che va preparato qua giù con una vita buona, subito, ora. Se vivessimo così la vita saremmo felici fin da qua giù. Meditiamo i misteri del dolore. Il primo mistero ci porta nell'orto degli ulivi. Gesù sta pregando, soffre, suda sangue a motivo dei nostri peccati con i quali ci facciamo del male. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della tua croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi, il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Amo. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena della flagellazione. La flagellazione è qualcosa di terribile e Gesù, affrontando la flagellazione, ha portato su di sé tutta la violenza della storia, tutta la cattiveria della storia, per redimerla con la sua bontà, con la sua pazienza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano, benedetti a noi i nostri debiti, come noi le remettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli anni. O Gesù, perdona le nostre colore, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore, curaci con la tua bontà, accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà che riempie il cuore di vera felicità. Amen. Il terzo mistero del dolore ci presenta Gesù che viene coronato di spine, deriso e addirittura schiaffeggiato dal servo del Sommo Sacerdote. È una lezione di umiltà che ci fa capire che l'orgoglio è la massima distanza tra noi e Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Padre nostro Padre quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come a noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma le prece dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come è nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre morte, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Signore Gesù, il pianto delle mamme di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce. Ma il pianto non basta. Il pianto deve trascimare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce, in presenza che parla. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore. Aiuta tutte le mamme ad essere veramente mamme. E ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Amen. Il quarto mistero del dolore. Ci presenta Gesù che porta la croce e cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di sirene e confortato dalla presenza di Maria. Quando si soffre, è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Lasci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E noi ci indurre in tentazione, ma liberaci dal mare. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservasi dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo, e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Amen. Il quinto mistero del dolore ci porta sul Calvario, accanto alla croce di Gesù. Gesù muore per amore, per amore nostro, e da quel momento inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia, che ora arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, mano di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, mano di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, mano di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, mano di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, mano di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, mano di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Come è nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza e unico liberatore, unica gioia e unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi, peccatori. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia. Sì il nostro aiuto contro le insidie del demonio. Che Dio eserciti il dominio su di Lui. Preghiamo supplichevoli. E tu che sei il principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esudi figli di Eva. A te sospiriamo, cementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo quest'esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini. Prega per noi, Madre di Dio, prega per noi, Madre della Dio, prega per noi, Madre della Dio, prega per noi, Madre purissima. Prega per noi, Madre della Dio, 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 prega per noi. Prega per noi, madre del tuo consiglio, prega per noi, madre del creatore, prega per noi, madre del salvatore, prega per noi, prega per noi, vergine prudentissima, prega per noi, vergine degna di odore, prega per noi, vergine degna di odore, prega per noi, vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi, vergine degna di odore, prega per noi, specchio della santità divina, prega per noi, sede della sapienza, prega per noi, causa della vostra edizia, prega per noi. Pregine clemente, prega per noi, 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 stella del mattino, prega per noi. Pregine clemente, prega per noi, 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 Rega per noi, regina dei Patriarchi, rega per noi, regina dei Progetti, rega per noi, regina degli Apostoli, rega per noi, regina dei Martini, rega per noi. Rega per noi, regina dei Veri Cristiani, rega per noi, regina delle Vergini, rega per noi, regina dei Conti Santi, rega per noi, regina concepita senza peccato originale, rega per noi. Rega per noi, regina del Santo Rosario, rega per noi, regina della Famiglia, rega per noi, regina della Mace, rega per noi. Rega per noi, regina dei Patriarchi, 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 reg Preghiamo Maria, Vergine del Soccorso. O Maria, tu un giorno lasciasti in fretta la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. O Maria, soccorri la nostra povertà, aiutaci ad aprire il cuore e attenderci reciprocamente la mano. O Maria, tua cana di Galilea ti accorgessi del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso e salva la gioia delle famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno. Aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. E la benedizione del Signore arrivi in tutte le case, in tutte le famiglie, in tutti i cuori, in tutte le persone che sono negli ospedali, in tutti coloro che si impegnano a soccorre, ad alleviare il dolore. Per intercessione di Maria Immacolata, Vecine del Soccorso, La benedizione di Dio Onnipotente scenda su tutti voi, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita buona, con la nostra vita di carità. Andiamo in pace. Vecchiamo il Signore con la nostra vita buona, con la nostra vita buona. Vecchiamo il Signore con la nostra vita buona, per la nostra vita buona, con la nostra vita buona, E rispite il mio più tempo, non so che le alpate. In colonna tu lo dici spero, ai tuoi piedi e gli animi per me, che la luna si curva d'argento, il tuo manco in colore del cielo. In colonna tu lo dici spero, ai tuoi piedi e gli animi per me, che la luna si curva, ai tuoi piedi e gli animi per me, che la luna si curva, ai tuoi piedi e gli animi per me, che la luna si curva, ai tuoi piedi e gli animi per me, che la luna si curva, ai tuoi piedi e gli animi per me, che la luna si curva, ai tuoi piedi e gli animi per me, luna si curva, ai tuoi piedi e gli animi per me, alcune questione, ai tuoi piedi e gli animi per me, Grazie.